Mi ha colpito molto che lei ha detto voi vivete, mettete in pratica il Vangelo col vostro operare e mettete in pratica il Vangelo. E questo mi ha colpito perché lei dice io parlo da cattolica, sono cattolica e non sempre si vedono i cristiani vivere realmente il Vangelo. Ha fatto auguri, state bene, è la donna molto forte. Nancy Pelosi ha espresso molto interesse per due aspetti della comunità di Sant'Egidio. I corridoi umanitari per i migranti perché in America stanno accadendo delle cose terribili come l'ultima strage di migranti in Texas. Quindi si è soffermata molto, ha chiesto molti dettagli su questo proprio perché voleva capire se era possibile replicare questo modello anche negli Stati Uniti. Il secondo tema naturalmente è stato quello dell'aggressione russa all'Ucraina e io ho posto il problema alla speaker, quindi ho chiesto di un impegno ulteriore nel cercare nuove vie di pace. Naturalmente questo oggi è ancora molto complicato ma non bisogna dimettere il sogno della pace. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.